Matteo, come è andato un'arriva un po' speciale? Molto duro, onestamente non pensavo di riuscire a tenere la ruota dei migliori sulla salita ma la condizione è buona e i ragazzi sono stati bravissimi perché naturalmente se ci fosse stato qualche attacco Hague e Adam avrebbero provato ma si sono stati tutti insieme e poi Jack ha fatto un lavoro eccezionale, due chilometri d'arrivo purtroppo oggi Greg è stato proprio bravo Questa mattina tu pensi che un'arriva, una volata? Magari sì però non con me quando siamo passati sull'arrivo la prima volta abbiamo visto che era molto duro quindi era molto difficile però sono molto contento di come sono andato oggi Grazie mille